Musica Quando qualcuno chiedeva a mio nonno perché facesse il pescatore, lui rispondeva Zimavi stralba sul mare, vero? Perché qui abbiamo il mare, che ci ripaga con il suo spettacolo di ogni fatica. Tutti i più grandi chitarristi della storia del rock non sono nessuno in confronto a mia zia, perché qui abbiamo la pasta alla chitarra e l'izia Amelia. Noi siamo sempre al passo con i tempi, infatti siamo social. Anzi, noi possiamo dire che i tempi li anticipiamo, perché siamo sempre stati social, ancor prima che inventassero internet. Perché qui la socialità è reale, non virtuale. Era la prima volta che venivamo a Rocca San Giovanni e ad un tratto abbiamo sentito un profumo meraviglioso. C'era una signora e le abbiamo chiesto cosa stesse cucinando. Pallotte, casce e uve. Non ci abbiamo capito niente. Ma la signora ci ha fatti entrare e ci ha invitati a pranzo. Perché qui l'ospitalità è un bene prezioso. E ora anche noi accogliamo chiunque voglia scoprire persone semplici e genuine. Da piccola passavo ore a fissare questa torre tra i filari, sperando nell'apparizione di un principe. Mio nonno un giorno mi disse che lì dentro non viveva nessun principe, ma che vi era custodito il tesoro di Rocca San Giovanni. Mi sono sempre chiesta quale fosse. Solo col tempo ho capito cosa intendesse dire mio nonno. Perché qui, costruiamo da secoli, il nostro bene più prezioso. Spesso resto fuori a ballare tutta la notte con i miei amici. E non rientriamo a casa se non vediamo le prime luci dell'alba. In fondo noi siamo giovani e pensiamo solo a divertirci. Perché qui abbiamo capito che il divertimento non ha età. Perché qui abbiamo capito che la notte con i miei amici.